Radio Radicale, siamo con l'On. Publio Fiori, che come sapete è stata una figura molto importante della democrazia cristiana e poi anche di alleanza nazionale, perché ha rieditato una vecchia testata della destra liberale della democrazia cristiana, poi me lo spiega, l'idea popolare, dove attraverso questa testata ha pubblicato un articolo dove mette in guardia dai rischi dell'autonomia e del presidenzialismo che a suo modo di vedere non si bilanciano bene. Allora ci spiega quali sono le sue critiche su come è stato strutturato questa autonomia differenziata, che è il primo passo che poi porterà a una serie di riforme, sulle quali poi tra l'altro anche il Ministro Casellati ha fatto nei giorni scorsi delle audizioni prima di tirare una riga. La mia impressione, l'impressione di questo gruppo di ex-democristiani che hanno dato vita, hanno ripreso l'idea popolare che era il giornale di Dosturzo, che Dosturzo editò in appoggio al Partito Popolare proprio per rilanciare la dottrina sociale del popolarismo che non c'era più. La nostra preoccupazione è che la Costituzione e la nostra democrazia prese in mezzo da una parte il presidenzialismo e dall'altra parte le autonomie venga a perdere una qualità, cioè una qualità importante perché e il presidenzialismo e le autonomie locali partono da una concezione del popolo e della sovranità popolare che non corrispondono a quello che è previsto dalla Costituzione. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo ma aggiunge nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa. Quindi il popolo non è inteso come un'entità astratta avente funzione esclusivamente elettorale, ma il popolo vige e svolge un ruolo democratico se ha un'identità e l'identità si costruisce attraverso una procedura che è prevista dalla Costituzione. Cioè sovranità popolare e popolo sono concetti che scaturiscono da un procedimento che la Costituzione descrive e che quindi sono, come dire, questi procedimenti sono in contrasto con una visione della rappresentanza col sistema lideristico di un Presidente eletto direttamente, senza controlli e senza limiti e anche di una concezione dello Stato che venga frazionata secondo le condizioni economiche delle Regioni e quindi crei delle ingiustizie territoriali. Allora noi col popolarismo intendiamo riprendere un cammino del cattolicissimo politico perché riteniamo che si può fare una politica migliore, ma che per fare questa politica migliore sia importante la presenza dei cattolici, non più situati chi a destra e chi a sinistra, ma come un movimento, per ora un movimento culturale e dottrinale, diciamo una dottrina politica. Poi vedremo, perché Sturzo disse che il popolarismo è una dottrina politica, però può avere o non avere un partito. Infatti quando lui fondò l'idea popolare c'era il partito popolare, ma già stava declinando, quindi lui disse può esistere questa dottrina politica del popolarismo anche a prescindere dall'esistenza del partito popolare. Allora noi riteniamo che anche riprendendo una sollecitazione dei cardinali Bassetti e Parolin che a marzo del 22 fecero un'assemblea delle associazioni cattoliche e disse noi come presenza sociale ci siamo, ecco le organizzazioni cattoliche, ma i cattolici in politica dove stanno? Cioè il cattolicesimo politico è un partito, era, è stato un partito che riprende i valori del cattolicesimo politico appunto ripresi dalla Costituzione, che sono nella Costituzione. Cioè la Costituzione quando fu varata, fu varata anche nel rispetto, nel richiamo di alcuni principi. Faccio due esempi. L'articolo 2 che parla del riconoscimento dei diritti fondamentali, naturali. Cioè la Costituzione dice questa è la base della Repubblica, però noi riconosciamo dei valori essenziali, naturali, che esistono prima della Costituzione. Faccio un esempio, per esempio il diritto alla vita è un diritto fondamentale, naturale. E così l'articolo 4 della Costituzione, che molti ignorano, secondo il quale la Repubblica favorisce lo sviluppo spirituale, dice la Costituzione. Ora tutto questo, siamo di fronte ad una società nechilista, una società individualista, una società che ha perso i connotati della solidarietà, li sta perdendo. Allora io credo che un ritorno di una formazione politica ispirata al cattolicesimo che non sia utile. Senta, però mi dovrebbe spiegare perché voi, tra l'altro il popolarismo ha fatto anche riferimento come simbolo al campanile, voi temete questa autonomia. Allora, lei mi ha parlato del fatto che gli elettori devono essere protagonisti. Molti dei processi decisionali che riguardano questa autonomia dovrebbero passare anche attraverso dei DPCM, come per esempio sul tema dei livelli essenziali delle prestazioni. Allora, che cosa la preoccupa di più di questo processo? E perché un uomo di destra come lei vede negativamente questo abbinamento col presidenzialismo? Allora, io non sono un uomo di destra, nel senso cioè che... Perché la destra dici... Destra sociale, ecco. Sempre destra... Sì, sì, destra sociale, cioè una destra molto attenta ai problemi delle persone, alle povertà, tant'è vero che noi siamo dell'idea di dover lanciare anche la proposta di una patrimoniale perché riteniamo che ci siano delle ricchezze che debbano contribuire con un'imposta patrimoniale ai problemi del Paese. Quindi non è una proposta di destra quella della patrimoniale. E quindi noi siamo preoccupati, cioè non è che diciamo no alla riforma delle autonomie, siamo preoccupati perché a seconda di come venga realizzata questa riforma potrebbe contrastare con le procedure che la Costituzione prevede l'unità dello Stato, cioè avere delle condizioni diverse da regione a regione, avere un tipo di assistenza diversa, avere un trattamento salariale diverso, cioè bisogna fare molta attenzione perché così c'è il rischio di disgregare l'unità nazionale. Quindi la nostra è una preoccupazione che segnaliamo e alla quale eventualmente siamo disposti a collaborare con i nostri tecnici costituzionalisti perché ciò non avvenga. Pensa che quella cosa che aveva detto Valditara qualche giorno fa sugli stipendi, sulle gabbie salariali, era un primo campanello d'allarme su quello che sarebbe successo dopo? Penso di sì, penso di sì. Penso che tornare alle gabbie salariali vuol dire accettare le diversità che aumentano anziché diminuire territoriali. Allora noi non possiamo accettare uno Stato che limita la sua politica sociale all'accettazione di diversità, di grosse differenze tra una regione e l'altra. E noi abbiamo bisogno di uno Stato che garantisca l'unitarietà della politica e dell'articolazione. E poi dopo naturalmente le regioni all'interno di questa autonomia possono in qualche modo legiferare ma senza creare lo Stato dentro lo Stato. Senta, è preoccupato di come vengono scritte le leggi da qualche tempo a questa parte? Ci sono state tante polemiche su come si scrivono i testi. Allora questa è una cosa molto importante. Ritiene che possa esserci una difficoltà. Allora se mettiamo mano a riforme importanti come questa lei pensa che possa esserci qualche rischio non solo di qualche errore giuridico ma anche di un pasticcio che non tiene poi bene il Paese? Questa è la nostra preoccupazione. Mi sorprendo perché l'ufficio studi della Camera da come io lo conosco ormai bene perché sono stato ho avuto sette legislature sono stato vicepresidente della Camera il centro studi della Camera è ad altissimo livello. È il più importante di tutti insomma. Cioè quelli che sono qui alla Camera penso e al Senato sono i più bravi di tutti. Non c'è dubbio. Allora proprio per questo quando vedo delle sbavature nei testi mi sorprendo perché dico come è possibile? Ma quelli non lo scrivono i funzionali della Camera. Però il consiglio che io do al Governo se mi è permesso è di utilizzare di più e meglio il centro studi della Camera e del Senato perché la legge ha una sua filosofia però c'è anche una sua prassi per cui dipende molto da come è scritta perché una virgola, una parola, un pronome spesso cambiano il significato e quindi il Governo dovrebbe fare secondo me più attenzione ai risvolti formali delle leggi. Voi come l'idea popolare farete delle iniziative su questo? Certo, abbiamo previsto un convegno a fine febbraio un confronto dove ci misureremo con coloro che invece non sono d'accordo con le nostre posizioni proprio perché noi riteniamo che e sulle autonomie e sul presidenzialismo sia indispensabile un confronto serrato per cercare di fare un'analisi che eviti i rischi di liderismi o di fratture all'interno del Paese. Chiarissimo. Allora, grazie a Publio Fiori che ci ha portato anche questa notizia della riedizione dell'idea popolare e delle iniziative che voi farete sul tema delle riforme. La ringrazio molto.